La Gronda sembra aver fatto un passo indietro più che avanti a leggere le dichiarazioni del Ministro Salvini. Tanto partiamo da un dato positivo. Il Ministro Salvini riconosce il fatto che la Gronda sia un'infrastruttura essenziale per il territorio. Poi il fatto di affermare anche che comunque sia un progetto adattato apre purtroppo al rischio di rimettere in discussione tracciati e quindi i tempi inevitabilmente si vanno ad allungare. E questo è un elemento di preoccupazione perché poi, considerazione dal cittadino, il progetto è datato perché non si è riusciti in questi ultimi 15 anni mai a metterlo in una fase esecutiva. Quindi bisogna prima di tutto cambiare la mentalità di chi fa politica e di chi ci governa, imprimendo nella testa dei nostri governanti la necessità di porsi dei target anche temporali, oltre che divisione. E quindi questo è un aspetto fondamentale. La certezza non soltanto delle norme, ma anche dei tempi di realizzazione di infrastrutture strategiche come la Gronda, perché la Gronda è indiscutibilmente un'infrastruttura strategica per il nostro territorio. Anche se i tempi si allungheranno sicuramente, perché essendo stato definito un progetto datato bisogna un po' reiniziare tutto da capo. A proposito di qualcosa che non trova mai un compimento, la zona logistica semplificata. Ne parliamo da anni. Avete ripetuto gli appelli alla nomina del commissario, ma siamo passati a metà del 2023. Ancora nulla? Sì, abbiamo accolto con favore il fatto che il governo recentemente è riuscito a varare la zona economica speciale per il mezzogiorno. Quindi vuol dire che il governo crede in questi strumenti, quali elementi determinanti per lo sviluppo di porzioni di territorio strategiche. Ci aspettiamo che a questo punto anche il misto fitto si decida a nominare il governatore Totti o comunque il commissario per la zona logistica semplificata, perché non dobbiamo dimenticarci che nel mondo queste zone logistiche hanno successo laddove sono costruite intorno a realtà portuali importanti. E visto che Genova è indubbialmente la realtà portuale più importante d'Italia o tra le più importanti, sarà determinante per il rilancio, voglio dire, di questa progettualità, iniziare da un porto strategico come quello genovese. Siete già arrivati al punto in cui vi potete definire presi in giro? Siamo arrivati al punto in cui non capiamo il perché si sia aspettato tanto, cioè se si doveva per referenza attendere questa decisione, perché il Sud, quale bacino elettorale particolarmente importante doveva avere una sorta di just prime notice, va bene, ma adesso vorremmo essere presi in considerazione come una bellezza mediterranea da tenere in considerazione, ma non quella di Torriglia che tutti la vogliono e nessuno la piglia. Chiudiamo con un altro tema amaro, quello delle infrastrutture che ci accompagno ormai dal 2018, carenti, code in autostrada, cantieri peraltro anche in città, non si riesce a trovare una fine. E questo sarà il destino a cui è votato il nostro territorio, non soltanto Genova ma in generale Liguria, nei prossimi 5-7 anni. Lo sappiamo, lo dobbiamo accettare, quello che sicuramente dobbiamo cercare di capire è come organizzarci forse un pochino meglio a livello di programmazione dei cantieri, a livello di segnalazioni da dare alla cittadinanza, a livello anche di piani emergenziali, perché vediamo si crea un incidente, si crea un intoppo sulle autostrade, si blocca tutta la circolazione per ore e ore, questo francamente non è accettabile. Bisogna forse avere delle unità speciali di intervento che in caso di incidente sappiano trovare delle soluzioni, diciamo così, percorribili in tempi certi per liberare il comune cittadino dall'essere sequestrato in autostrada per delle ore. Altrimenti succede quello che è successo nelle scorse ore, quando in A10 addirittura una ventina di auto che non sopportavano più di stare in coda, hanno ingranato la retromarcia, fatto manovra e sono andate in contromano. Ovviamente un comportamento che non è accettabile, ma è sintomo dell'esasperazione di chi ormai rimane in coda sempre più spesso. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.